Ciao ragazzi, faccio questo breve video per assicurare tutti i nostri clienti dell'autoriparazione Nuova Carte e delle Carnovara. Noi stiamo regolarmente lavorando, abbiamo attuato tutte le strategie sanitarie di protezione dei clienti, dei veicoli, abbiamo tutte le disposizioni normative appese, regolarmente visibili a tutti i nostri clienti che arrivano nella nostra sede e mi raccomando ragazzi teniamo duro, usiamo tutte le disposizioni di sicurezza, stiamo attenti al gruppo, potete tranquillamente recarvi nella nostra officina, abbiamo degli appuntamenti dove i clienti scaglionati vengono nella nostra attività, consegnano solo le chiavi, noi ci occupiamo di tutto il resto, entrare, lavorare la vostra vettura, ridarvela in completa sicurezza senza nessun rischio. Ci stiamo anche attivando con nuovi servizi di prenotazione online e anche su dispositivi che ci danno la possibilità di attrezzarci per il recupero della vostra vettura.